Più passa il tempo e più si fa importante la fronda di chi vorrebbe Massimiliano Allegri fuori dalla Juventus alla fine di questa stagione. Quelli più agguerriti invece lo vorrebbero fuori subito. Insomma, la situazione è quella che è, lo sappiamo, anche per via della mancanza di risultati soprattutto nell'ultimo periodo. Incredibile come dopo la gara pareggiata contro l'Empoli in dieci uomini per via dell'espulsione di Milik con la Juve che era riuscita anche a passare in vantaggio si stia spenta la luce. Quel fischio finale, senza sorpasso all'Inter, è stato il clic sul tasto off, e da quel momento in poi le cose sono precipitate. I bianconeri comunque rimangono dentro la zona Champions League che come sappiamo è l'obiettivo stagionale, e Allegri a quanto pare, pur di giocarla la Coppa e pur di rimanere in sella anche per il Mondiale per Club, secondo le informazioni di tutto sport sarebbe disposto, anche, a restare con il contratto in scadenza. Allegri vuole rimanere alla Juventus. Massimiliano Allegri, in scadenza di contratto, sarebbe disposto a iniziare la nuova stagione anche senza rinnovo contrattuale, svela il quotidiano torinese. Una situazione che nessun allenatore forse vorrebbe avere ma che Max accetterebbe volentieri. C'è assolutamente da dire una cosa in tutto questo. Il tecnico che ha chiuso il suo primo ciclo bianconero, vincendo tutto quello che si poteva vincere in Italia e arrivando pure due volte in finale di Champions League, ama i colori bianconeri. Su questo crediamo davvero ci possano essere poche discussioni. Vedremo ovviamente quello che succederà nei prossimi mesi, sapendo che esonerarlo potrebbe costare carissimo alle casse della Juventus che non si può permettere di pagare due allenatori. Ed è questo forse che un poco frena tutto. Juventus. Colpo di scena sul mercato, tanti saluti a YLDZ. Il mercato della Juventus, passerà da un clamoroso addio. Colpo di scena YLDZ, può davvero salutare Torino. Il calciomercato, si sa, è in grado di regalare colpi di scena inattesi in ogni momento. E così la Juventus di Massimiliano Allegri, rischia di perdere diversi pezzi importanti per strada. Uno su tutti la rivelazione della stagione, Kenan YLDZ. Manca poco ed il campo lascerà spazio ai movimenti di mercato che caratterizzeranno la bollente estate della Juventus. È ancora tutto da delineare il futuro di Massimiliano Allegri, in scadenza il 30 giugno 2025 con la società piemontese. Il tecnico ha cancellato due anni assolutamente negativi con una stagione più che positiva, nella quale la squadra bianconera ha seriamente rischiato di competere per lo scudetto. Cosa è mancato? Probabilmente una rosa più profonda, in grado di garantire allo stesso Allegri alternative di spessore al solito 11 titolare. La missione di Cristiano Giuntoli, a questo punto, sarà solo una. Rendere la Juve 2024 venticinquesimi più forte e competitiva che mai, in ogni settore. Un obiettivo tutt'altro che facile, viste le condizioni economiche in cui versa la società bianconera da qualche tempo. Ad ogni modo a definire le entrate saranno soprattutto gli addii, che faranno spazio ai nuovi arrivi e ad investimenti importanti. Se a centrocampo sembra ormai probabile l'addio di Adriane Rabiot a zero il francese, difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno in attacco la Juve potrebbe stupire. Kenan Ilditz potrebbe dire addio molto presto ai colori bianconeri. I tifosi della Juventus sotto shock. Ecco l'inaspettato scenario per la prossima estate. Ilditz spiazza tutti. Ceduto dalla Juve. 18 anni, ed un futuro davanti a sé assai roseo. Kenan Ilditz è il volto nuovo in casa Juventus. Una stagione davvero importante per l'attaccante turco arrivato nella Torino bianconera a zero dal Bayern Monaco nell'estate 2022. Nonostante l'esplosione in campo e rendimento da potenziale fenomeno, adesso la Juventus potrebbe finire per cederlo. Parte tutto dalla volontà dello stesso Ilditz, che ha intenzione di ritrovarsi, l'anno prossimo, al centro di un progetto importante. Giocare titolare, con continuità, uno scenario che fino a questo momento alla Juve ha solo annusato. Allegri ne ha sicuramente compreso l'enorme potenziale, ma come accaduto con altri giovani in passato, non vuole fargli bruciare le tappe. Ilditz però scalpita ed è pronto ad ascoltare le grandi offerte che arriveranno da giugno in poi. La Premier League in primo piano con Newcastle, Arsenal e Chelsea davanti a tutti. Occhio pure al Borussia Dortmund, pronto a scommettere sul ragazzo. Ilditz, fino a questo momento ha collezionato 27 presenze con 5 gol ed 1 assist vincente. Juventus, maxi affare, scambio 3x2 in Serie A La Juventus prepara un clamoroso affare direttamente in Serie A. Giunto l'e-show, scambio 3x2 in l'estate, sarà sicuramente il calciomercato il tema caldo in casa Juventus da qui ai prossimi mesi. In attesa di chiudere un'annata altalenante e verosimilmente salutare Massimiliano Allegri, il DS bianconero Cristiano Giuntoli ha già le idee molto chiare. L'ex dirigente del Napoli ha in mente una serie di acquisti in grado di rafforzare pesantemente la rosa della Juventus senza impattare eccessivamente su monte in gaggi e budget per i cartellini. Ecco perché nelle ultime settimane sta prendendo corpo una clamorosa ipotesi direttamente in Serie A. Uno scambio davvero pazzesco che metterebbe a posto ben due reparti della rosa di Allegri. Una delle rivelazioni di questo campionato è sicuramente il Bologna di Tiago Motta, allenatore stimatissimo da diverse grandi del nostro calcio. Dal Milan a soprattutto la Juventus. Ma intanto ciò che maggiormente sta facendo impazzire le emergenze, sono i gioielli messi in mostra dalla squadra rosso-blu. In tal senso Cristiano Giuntoli ha già puntato ben due delle gemme dei Felsinei che a fine stagione potrebbero anche venire sacrificate. Giuntoli ne offre tre. Scambio shock col Bologna. Il primo è Riccardo Calafiori, difensore centrale e all'occorrenza terzino che ha mostrato una crescita e delle qualità davvero importanti negli ultimi mesi. Ma non finisce qui. La Juventus non smette di pensare a Lewis Ferguson, centrocampista scozzese tra le note più sorprendenti dell'undici di Tiago Motta. L'allenatore non ha praticamente mai fatto a meno di queste due pedine fino ad oggi. Una valutazione complessiva di circa 50-60 milioni per il duo rosso-blu non sembra però spaventare Giuntoli. Il direttore sportivo della Juventus sta infatti pianificando l'inserimento di ben tre contropartite per abbassare il prezzo e consegnare al prossimo tecnico della Juventus che difficilmente sarà Massimiliano Allegri due dei gioielli più ambiti e apprezzati della Serie A. In primo piano il nome del giovane terzino Tommaso Barbieri, attualmente impegnato in Serie B in prestito al Pisa. Occhio poi a Samuel Eiling Jr., talento purissimo che nell'attacco del Bologna potrebbe registrare una crescita importante da qui ai prossimi anni. Giuntoli offrirebbe anche un centrocampista, uno a scelta tra Fabio Miretti ed Enzo Barrenecea, una proposta decisamente importante per arrivare, in estate, a Calafiori e Ferguson. Juventus e Bologna nelle prossime settimane potrebbe già cominciare a parlarne, ed i tifosi bianconeri non vedono l'ora.